Il presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo ha ricevuto il generale di divisione Paolo Ruggero, nuovo comandante della scuola di applicazione dell'esercito di Torino. A Palazzo Lascaris si era anche svolta la cerimonia del saluto al generale di corpo d'armata Alessandro Montuori, che ha lasciato il comando per trasferirsi a Roma per assumere l'incarico di comandante logistico dell'esercito.